Se stai avendo difficoltà ad aprire il gioco FIFA 25 ovviamente già ci sono parecchi problemi su Steam tipo per lo più negativa alle recensioni e alcuni utenti hanno detto che non parte neanche il gioco quindi in questo caso possiamo risolvere tutto aggiornando i driver sul nostro sistema operativo scheda grafica e soprattutto facendo delle modifiche sull'applicazione ovviamente aggiungeremo anche la cartella dei DirectX Runtime da mettere sulla nostra scheda grafica attraverso gestione dispositivi quindi in descrizione ho lasciato così il web installer DirectX End User Runtime è un piccolo software che puoi scaricare e installare senza nessun problema scarica vai su questo software del setup Accettiamo il contratto, vai avanti, non installate questo Bing Toolbar vai avanti e ti installerà così i DirectX della Microsoft sul tuo sistema operativo e basta poi abbiamo quelli di Microsoft Visual C++, il Visual Studio 2015 fino al 2022 ti consiglio di installare questi due qua scarichiamo questo e scarichiamo quest'altro avvio l'86 per 86 e poi avvio pure il per 64 qua mi dice di ripristinare così l'installazione quindi ho già installato queste due parti quindi ti consiglio di installare questi software qua, questa Microsoft Visual C++ per il tuo sistema e poi riavviare il tuo computer faccio annullo perché lo tengo già installato passando ora alla parte del file media file della cartella di DirectX Runtime il pacchetto RAR che deve estrarre con WinRAR clicca su WinRAR e resta i file DirectX Runtime entriamo nella cartella e adesso abbiamo tutti questi file qua questi driver qua possono risolvere vari errori riguardo al crash durante la partita oppure l'errore 0xg tutti 0 e poi 7b quindi come funziona clicca qua sopra copri così il percorso file di questa cartella perché adesso dobbiamo inserirla sulla nostra scheda grafica tasto destro su gestione dispositivi, gestione dispositivi vai sulla tua scheda video aggiunga driver circa driver nel computer e incolla quel percorso file qua vai avanti e installi così i driver a me dice che i driver migliori per il tuo dispositivo sono già installati quindi non ho problemi ad avviare il gioco oppure circa i driver aggiornati in Windows Update verifica disponibilità aggiornamenti e vedi se devi fare qualche aggiornamento se non fai aggiornamenti da parecchi mesi ti consiglio di fare gli aggiornamenti su Windows Update prima di avviare il gioco ora per quelli invece che hanno una scheda grafica Nvidia c'è il programma che ti ho lasciato in descrizione che si chiama Nvidia App ho aperto un'altra pagina Nvidia App ed eccolo qua qui io scarico i driver e installo i driver per la mia scheda grafica tengo sempre aggiornati i driver della mia scheda grafica per non avere sempre problemi di crash, schermo nero, lag, problemi DirectX tutte queste cose qua quando vai ad avviare il gioco non puoi neanche goderti FIFA perché ogni due minuti esce un errore ora andiamo su FIFA tasto destro solo sull'applicazione mostra attropazione proprietà compatibilità disabilitate questa ottimizzazione schermo intero provate ad aprire il gioco con questi dpi programma quindi selezionate così sistema avanzato se non si avvia togliete le spunte da qua e fate ok esegui il programma sempre come amministratore e fate applica e fate ok se non dovesse bastare vai direttamente su grafica impostazioni grafica vai su sfoglia entra nella cartella del gioco e vai a prendere FIFA 25.hexy FC sbalzo 25.hexy aggiungi lo aggiungi ed eccolo qua prestazioni elevate opzioni metti così la tua scheda grafica prestazioni elevate e fai saldo così non avrai più problemi sia di DirectX o schermo nero oppure che non si avvia proprio il gioco in caso clicchi su FIFA 25 si carica e poi non si avvia tasto destro su start vai su gestione attività termini così la l'applicazione di FIFA ok quindi termina l'attività di FIFA e avvi di nuovo il gioco ci sono altre guide a riguardo su FIFA quindi DirectX stato avvio protetto problemi con il controller tutto in alto a destra nelle schedine grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao